Grazie a tutti. No, ci parleremo, non ci parleremo. Mi lascio un attimo via. Signora, avanti, già passato qua. E non so dove mettermi. Non so dove mettermi. Un attimo, perché non vedo proprio... E non vedo più il sostegno. Marco, Marco, dagli la sciaccia. Dagli la sciaccia. Guarda quando vieni. Grazie.